DIA FASTI 357, mi dai il numero, si devi fare due cose in una volta, per un uomo non è facile, lo so, me lo dai sto numero? Ho fatto un sogno orribile. Cosa può essere di tanto terribile? È solo un sogno. Perché io ho fatto quel sogno, Daniele? Perché ti è successo. Amore, poi quando sei tornata dall'America hai cambiato tutto. Mi spieghi perché? Ti tiri sempre a distanza dalle cose che ti angoscia. Non devi dirlo a nessuno perché sono cose che succedono. Come si può mischiare un segreto come il nostro alla vita della gente normale? Non si può.